allenati a far succedere ciò che senti come possibile nella tua vita allenati a far sì che ciò che tu senti come possibile accada perché vedi se tu farei questo partendo ad esempio anche dalle piccole cose della vita voglio costruire qualcosa voglio andare a fare un certo tipo di esperienza voglio andare a fare una certa vacanza voglio conoscere certe persone voglio leggere certi libri voglio sviluppare una certa conoscenza ecco che quando noi decidiamo di realizzare qualcosa che avvertiamo come possibile dentro di noi creiamo una possibilità creiamo un apprendimento che nel tempo se è reiterato nel tempo può diventare una consuetudine e allora ecco che se noi impariamo a far diventare consuetudine l'arte di realizzare i nostri sogni i nostri progetti ciò che ci passa per la testa se noi facciamo diventare questa un'abitudine facciamo diventare una consuetudine un dato consolidato il fatto di poter realizzare ciò che vogliamo che cosa accadrà nella nostra vita ciò che vogliamo e vedi questa cosa semplicissima è possibile è possibile basta semplicemente che iniziamo magari dalle piccole cose di tutti i giorni voglio fare una certa cosa la faccio voglia realizzare un certo momento lo realizzo è possibile basta focalizzarsi su questa possibilità insistere e andare avanti giorno per giorno quello che succederà e che il tuo sistema si abituerà a questo diventerà un apprendimento diventerà una cosa naturale e allora semplicemente riuscirai sempre più a far accadere anche cose più complesse che riuscirai sempre più a vedere come possibili e alla fine accadrà semplicemente che accadranno cose che magari all'inizio non pensavi nemmeno fossero possibili ma che una volta allenato saranno semplici da realizzare portandoti grande gratificazione e soddisfazione nella vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti